Senatore Candiani, il Partito Democratico di Varese dice che non c'è un problema immigrazione a livello locale e la disoccupazione non è così alta come vogliono far credere. Lei è d'accordo? Ma si spingono oltre perché dicono che nell'intero paese il problema non esiste. Ho letto anche io queste notizie e ne sono rimasto abbastanza sconcertato perché questo vuol dire prendere la gente veramente per idioti. Stiamo vivendo una situazione di difficoltà, è chiaro che i problemi nei momenti di difficoltà vengono esaltati nella loro negatività. Non significa nello stesso tempo andare a far finita che tutti i problemi non esistano, che non esista un problema di immigrazione clandestina che è sotto gli occhi di tutti, che non esista un problema di sicurezza che è sotto gli occhi di tutti perché i furti e le azioni predatorie nelle case purtroppo in ogni paese ce ne sono episodi continuamente o che non esista un problema di disoccupazione. Fare credere alla gente che sia solamente una sensazione significa, ripeto, beffarsi anche dell'intelligenza delle persone. Al PD e in questo caso al segretario provinciale del PD dico in maniera molto concreta, i problemi vanno affrontati, l'immigrazione clandestina bisogna che sia respinta direttamente alla partenza, portare i clandestini a Varese, distribuirli nei comuni non è una soluzione. E ricordo anche quando qualche tempo fa lo stesso Astuti, segretario provinciale del PD, si faceva vedere con le braccia e gli arti ingessati dicendo che il governo non lo lasciava lavorare. Ecco adesso che c'è il governo Renzi lo vediamo totalmente al volto in bende, addirittura mummificato. Questo non è quello che i nostri cittadini hanno bisogno. Bisogna dare risposte concrete. Le risposte stanno a partire dall'affrontare i problemi, disoccupazione, clandestini e furti sono un'emergenza anche a Varese e ci devono essere risposte serie, non illusorie.